Bambini e Natura, il binomio dell'iniziativa che porta gli alunni delle scuole della città in visita agli orti sociali di via Sorberosse grazie all'associazione omonima. Un modo per riscoprire il contatto con la terra sin dai primi anni di vita in un territorio che per decenni ha avuto il settore agricolo come risorsa predominante. Oggi abbiamo ospitato i bambini del primo circolo didattico, abbiamo prima fatto una visita all'interno della struttura dove loro hanno potuto conoscere tutte le varie piantine che si mettono nell'orto, almeno le più comuni e poi loro stessi hanno creato un orto attraverso un piccolo gioco che abbiamo organizzato e poi dopo aver coltivato è stato offerto loro della pizza e del pane biologico tutto fatto in casa, tutti i prodotti appunto del territorio, tutti biologici. La cultura di Giuliano si fonda sulla cultura agricola potremmo dire e adesso invece i bambini di oggi non conoscono per niente questo mondo quindi era mia premura, è stato molto importante per me far conoscere loro appunto questo mondo dell'orto, dell'agricoltura che loro non hanno mai visto se non magari in televisione oppure magari su una rivista, su internet. Viva Natura!